segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te questo informat che chi l'ha visto la volta scorsa lo conosce per gli altri saranno buonasera e benvenuti in questa live la maggioranza assoluta sblocco la manovra finanziaria farà farà grazie tonzelli per adermi appoggiata grazie la russa per adermi appoggiata farà farà occorre sarro de sauron occorre sarro de sauron farà farà grazie piante dosi per adermi appoggiata camma fa a manovra e facimmo lo buono uh che paura uh che paura camma fa a manovra e facimmo lo buono farà farà grazie presidente dell'unione africana per adermi seguita complimenti hai sbroccato la manovra e l'ho lo dico esiste in essa cosa applausi